Il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, del PD, che è anche presidente della provincia di Pistoia, ha dato la disponibilità a candidarsi per il secondo mandato in vista delle elezioni comunali di primavera. Lo rende noto l'Unione Comunale del Partito Democratico, spiegando che la disponibilità di candidarsi per il secondo mandato era stata richiesta al sindaco Marmo dal PD a seguito del giudizio positivo sull'operato dell'amministrazione e sui risultati ottenuti in termini di investimenti, di iniziative sul territorio, di attività ordinaria e di visione programmatica. Nella riunione di venerdì scorso l'Unione Comunale, fa sapere il PD, ha preso atto della risposta positiva del sindaco a presentarsi per il secondo mandato. Si apre ora una nuova fase, si spiega, per definire un programma adeguato alle sfide che pongono i problemi della comunità e del territorio in un momento cruciale per le conseguenze sociali indotte dalla pandemia e dall'andamento economico nazionale e mondiale. Il Partito Democratico, si spiega ancora, si muoverà dai prossimi giorni per creare le condizioni per costituire il più ampio schieramento possibile di forze progressiste, per dare continuità al grande lavoro già svolto e innestare su di esso le novità necessarie per rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni della comunità. Il PD ha così deciso di confermare la fiducia al sindaco uscente, niente invece da segnalare al momento sul fronte opposto, quello del centro-destra.